. Come stai? Non bene, grazie. Uccidere... Capo Barzini Sì, sì, sono Sara Padre. Vanno dall'America. New York? Sì. . 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.